guarda un po cosa ho trovato un ricordo della tua lulù minchia mostro schifoso lo sapevo ecco perché faceva così il ruffiano ultimamente ma questa volta lo riducò brandelli di brandelli di pezzetti di cane di granchio si ma prendi questo che potrebbe esserti utile buona idea buona idea grazie